Avete mai avuto il desiderio di seguire fino in fondo una passione? Magari cercando di capire come condividerla con gli altri. Se qualche anno fa qualcuno mi avesse chiesto quante probabilità c'erano che io scrivessi un libro, avrei risposto meno di zero. Eppure oggi vi parlo da scrittore del mio primo libro, Get in the Game. Forse vi state chiedendo chi sono io, domanda più che legittima. Il mio nome è Alberto Calcagno e sono l'amministratore delegato di Fastweb. Ma con Get in the Game voglio raccontarvi una storia di crescita. Ma di che cosa ha bisogno un'azienda per crescere? Di che cosa ha bisogno un individuo per crescere? Vi racconterò la mia esperienza nel raggiungere un obiettivo che non ha uguali in Europa. Una crescita di 28 trimestri consecutivi, basata soprattutto su un nuovo modo di costruire la performance individuale. Ambizione, propensione alla sfida, coraggio, contaminazione positiva. Con Get in the Game vi propongo un viaggio autentico nelle possibilità che tutti abbiamo di migliorarci. Perché a nessuno viene chiesto di essere uno sportivo professionista, ma tutti possiamo essere atleti. Questo libro è infatti per coloro che hanno la voglia di giocare la propria partita. Buona lettura!